... Mister, una partita insomma già segnata, credo, San Biase ti puntava al vettore per risparmiare ancora nella promozione diretta e voi invece insomma per la salvezza, però credo che tutto si dice da domenica. Sì, noi dobbiamo pensare domenica a vincere con il Cassani in casa, sarà la partita della vita perché comunque giochiamo in casa, sfruttiamo il fattore campo, questa non è una partita da poter fare pure. Dobbiamo cercare di fare bene, con massimo impegno e sperare eventualmente i pre-hott in casa. È un'annata così strana che comunque dobbiamo cercare di arrivare alla fine di questo torneo e fare punti con il Cassani e eventualmente giocare i pre-hott in casa, l'obiettivo era quello. Un'ultima cosa, nonostante la sconfitta ho visto un buon antecevante della tua squadra. Sì, sono ragazzini, ma mancavano quattro giocatori perché hanno problemi di lavoro, però stiamo preparando la partita per domenica con il Cassani. Siamo al completo e quindi cerchiamo di farla nel migliore modo possibile. Grazie.